Con Nello Savoia candidato sindaco al comune di Bacoli, allora Nello stasera si chiuderà questa grande campagna elettorale? Sì, stasera in Villa Comunale alle ore 20 chiudiamo la nostra campagna elettorale, sarà il momento in cui scriveremo la storia per la città di Bacoli. Sono diversi anni, questa città non viene amministrata, è il momento del cambiamento, dobbiamo dare un cambiamento a questa città e stasera alle 20 in Villa Comunale racconterò tutto il mio percorso di questa campagna elettorale, dove ci ha portato, chi ho incontrato, cosa è successo, ma soprattutto racconteremo la nostra idea di città ancora una volta. Ecco Nello, questa campagna elettorale di ballottaggio degli ultimi 15 giorni è stata davvero molto intensa, si è andato ovunque, in qualsiasi quartiere, ha incontrato gente, il sindaco del popolo. Sì, sì, è vero, ti ringrazio perché veramente siamo stati tra la gente, perché l'ho detto, sarò il sindaco dei cittadini, non sarò il sindaco del palazzo, a differenza di altri che restavano fino a mezzanotte senza far nulla, io continuerò a stare tra la gente, perché le vere problematiche sono tra la gente e soprattutto io preferisco guardare i miei cittadini negli occhi, perché ancora oggi io posso guardarli negli occhi. Quindi ho raccolto emozioni, preoccupazioni, ma soprattutto quella speranza di poter cercare di migliorare questa città e di regalare un futuro migliore ai nostri figli. Questo è l'impegno che ho preso come sindaco, perché l'ho detto, io non faccio promesse, ma prendo impegni. È il momento che Bacoli si risollevi dalla situazione in cui si trova, sia di dissesto economico, finanziario, ma soprattutto di una questione paesaggistica, archeologica, storica di questo territorio. Abbiamo un territorio stupendo, straordinario, ricco di potenzialità, sia archeologiche sia paesaggistiche, ed è il momento di valorizzarle. La politica ha fatto troppe chiacchiere, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Ci ho messo tutto me stesso e soprattutto da lunedì inizierò con la carica di sindaco, a dare un contributo a questa città e a dare soprattutto risposte a questa città. Ecco, Nello, noi ci troviamo proprio dinanzi a un sito archeologico che è bellissimo, la Casina Van Vitelliana, tu sei un ragazzo del Fusalo di questa zona. Siamo in periferia, una periferia che deve essere riportata alla luce, però comunque senza mai dimenticare il centro, davvero comunque niente è stato lasciato al caso. Sì, il nostro programma elettorale parte proprio nella divisione di tutte le frazioni di Bacoli, perché l'ho detto ormai da tempo, Bacoli è anche Fusaro, Cuma, Cappella, Miseno, Torrecaveta, senza dimenticare ovviamente nessuna delle frazioni. Bacoli racchiude tutto, ha tante potenzialità e noi abbiamo detto mai più periferie. Ogni frazione di Bacoli sarà valorizzata, ad ogni frazione ci sarà una specificità di intervento. Qui al Fusalo, siamo appunto davanti alla Casina Van Vitelliana, c'è un sito importante, storico, che deve iniziare ad essere valorizzato, non può essere abbandonato, lo faremo, l'abbiamo messo nel nostro programma, inizieremo a dare una nuova linfa, una nuova vita a questa città, ma soprattutto a tutte le frazioni. A Cuma abbiamo iniziato a parlare anche del centro polisportivo di Cuma, da troppi anni abbandonato, anche lì daremo finalmente un'idea di città per quanto riguarda Cuma. Lo stesso varrà per Baia, altro sito archeologico, parliamo di viabilità, ne abbiamo parlato tantissimo sull'arretramento della stazione di Baia, di Torregava, anzi ne approfitto della vostra emittente proprio ora per segnalare che la stazione, la Comana è stata interrotta e ancora una volta Bacoli è stata abbandonata. Abbiamo già inviato attraverso i nostri consiglieri regionali un intervento per immediatamente riaprire questa stazione, ormai siamo abbandonati rispetto a Napoli, le vie del mare non funzionano, qualche stazione che avevamo come quella di Baia c'è stata soppressa, ora addirittura l'Eav chiude la stazione a causa di una frana, non possiamo più vivere in queste situazioni, è necessario che la politica torni a riprendersi il suo ruolo, è necessario che i partiti politici, gli organi sovracomunali come i consiglieri regionali, parlamentari, nazionali intervengano immediatamente in questa città. Abbiamo dato dimostrazione di far scendere sul nostro territorio fino anche il presidente Giorgia Meloni che ha preso un impegno con questa città, ritornerà e ci darà una mano per quanto concerne le loro competenze a livello ministeriale per dare risposte a questa città. Bacoli da troppo tempo è stata abbandonata anche dalla politica nazionale, è il momento che riprenda il suo ruolo di città straordinaria, io sono sempre convinto, lo continuo a dire, che Bacoli è una delle città più belle al mondo ma deve essere valorizzata, è il momento che la politica faccia il suo corso, è il momento che la politica scenda in campo, la buona politica può dare risposte. Lo dico sempre, se ci siamo candidati a sindaci, a consiglieri comunali, è il momento di dare delle risposte concrete a questa città, è il momento che la politica ritorni nel suo ruolo più importante, quello di dare soluzione ai cittadini. Troppe chiacchiere hanno fatto male a questa città e ne vediamo i risultati. Ho girato veramente ogni angolo di questa città, ogni angolo è stato abbandonato, ogni angolo è stato lasciato da se stesso, sono stato al Poggio, sono stato a Marina Grande, a Cappella, al Fusaro, a Cuma, ogni cittadino mi ha espresso la sua preoccupazione di vedere una città ormai abbandonata dall'arredo urbano, dai marciapiedi, dall'illuminazione pubblica, dallo sversamento di rifiuti tra le strade. Questo non può essere più concepito, non può essere più dato o seguito. Noi attueremo, anche un'altra delle nostre iniziative, la videosorveglianza su tutto il territorio di Bacoli. Controlleremo ogni centimetro di questa città, perché è necessario che i nostri cittadini vivano in una città sicura. Daremo la possibilità ai nostri cittadini di poter stare sicuri nelle proprie case, ma soprattutto di punire chi continua a creare problemi a questa città. Lo dico sempre, quando si esce dall'uscio della propria casa, appena mettiamo piedi sulla strada, anche quella è casa nostra. Quindi dobbiamo rispettarla e il senso civico di ogni cittadino deve tornare a regnare in questa città. Ecco, una cosa importante sulla quale tu hai puntato, il piano regolatore, perché il diritto alla casa, ricordiamolo, è una cosa fondamentale e sacrosanta. Quindi, insomma, uno dei tuoi obiettivi è proprio questo, un piano regolatore per salvare tante famiglie. Sì, pensate che Bagoli, il suo piano regolatore è fermo a 45 anni fa. Noi abbiamo una città non più disegnata, abbiamo una città disegnata circa 45 anni fa. Ci sono innumerevoli domande di condono che non vengono esaminate, perché nel caso in cui venissero esaminate dovrebbero essere gettate. Con il nuovo piano regolatore, il cosiddetto PUC, noi andremo a dare la possibilità di ridisegnare interamente la nostra città, dare la possibilità a tanti cittadini che hanno costruito in modo, voglio dire, regolare, io lo dico sempre, hanno costruito perché mancavano le norme e i cittadini di Bagoli non sono dei delinquenti. E finalmente potremo dare una risposta a questi cittadini, potremo far sì che i cittadini possano finalmente essere regolari, perché i cittadini di Bagoli sono persone per bene, potranno finalmente poter regolarizzarsi, avere una licenza, poter fare gli atti notarili per donarli ai propri figli, possono fare dei muti, possono iniziare a ristrutturare le proprie abitazioni ormai ferme a 45 anni fa e quindi iniziare a creare anche quell'economia sul territorio bagolese che manca da troppi anni. Questo è uno degli obiettivi principali, eminenti, che l'amministrazione Savoia metterà subito in campo perché non siamo secondi a nessuno, un comune a noi vicino, circa due mesi fa il comune di Monteprocita ha approvato il nuovo piano regolatore. Non vedo perché Bagoli non dovrebbe approvarlo, è il momento di sanare tutte quelle abitazioni lasciate così al caso, sempre perché la politica, la cattiva politica ha dimenticato questi cittadini, ma la buona politica può dare risposte e sicuramente darà la possibilità a questi cittadini di sentirsi finalmente le persone per bene e oneste, perché i cittadini di Bagoli sono persone per bene e oneste e chi ha costruito senza mancanza di norme non perché era un delinquente ma perché veramente la politica è mancata in questi anni. In chiusura proprio nello Savoia, allora il tuo slogan per una ragione d'amore con una frase, rivolgiti al cuore dei bagolesi. Guardi, io ho deciso di candidarmi a sindaco di questa città, l'ho detto per una ragione d'amore, perché amo la mia città, amo i miei cittadini e ho annunciato poi anche alcuni giorni fa anche di rinunciare l'indenità di sindaco perché ritengo che la politica debba essere una missione, ma soprattutto in una fase storica in cui il comune si trova di dissesto finanziario sarebbe difficile far comprendere ai miei cittadini o a un semplice genitore che mi viene vicino e mi dice sindaco noi non riusciamo ad avere la mensa per i nostri bambini. Io l'ho detto sempre, a casa mia hanno sempre insegnato che vengono prima i miei figli e poi vengo io. Quindi io cercherò veramente di mettere a disposizione i soldi da sindaco perché un sindaco guadagna ben 3.000 euro a mese, non riuscirei a guardare negli occhi i miei cittadini, quindi voglio mettere a disposizione la mia indenità a favore delle fasce deboli, a favore della mensa scolastica, affinché posso continuare a guardare i miei cittadini negli occhi perché continuo a dire che la politica è una missione, bisogna farla con cuore, bisogna farla con passione e soprattutto con competenza. Io chiedo ai cittadini veramente di domenica dare un segnale definitivo e di rottura alla vecchia politica, al vecchio modo di fare politica, si sono messi insieme tre candidati sindaci, diciamo di tutto di più, pensavano che la cozzaglia avrebbe dato poi alla fine un risultato, invece i cittadini di Bagli l'hanno già puniti al primo turno e sono certo e sono convinto che domenica faranno il loro ruolo di cittadini attivi e ci andranno a votare, mi andranno a votare per dare un segno di cambiamento soprattutto per far rinascere questa città, ne sono certo e ne sono convinto, quindi cari cittadini, domenica vi aspetto tutti quanti alle urne, è un treno che non passa più, lunedì non passerà più questo treno, ci sarà soltanto domenica, dalle 7 alle 11, basta barrare il mio nome e cognome, Agnello Savoia, basta una X per dare il cambiamento definitivo a questa città, vi aspetto tutti quanti domenica nelle urne.